Buongiorno da Maria Lisa Barbaruno, qui su Radio Antenna 1. Oggi siamo qui per Men's Life e ho il piacere di avere con me il dottor Alberto Aiuto che essendo farmacista e avendo avuto esperienza di direzione di aziende farmaceutiche è la persona più indicata a mio avviso a cui porre alcune domande dedicate al mondo del farmaco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora una cosa che ti volevo chiedere perché alle volte ce lo chiedono proprio i nostri i nostri utenti volevo capire la differenza fondamentale che c'è tra un farmaco etico, tra un farmaco SOP e un farmaco TC. Beh diciamo che il farmaco cosiddetto etico è il farmaco che viene utilizzato prevalentemente per patologie gravi. Quindi è quello prescritto dal medico in qualche modo no? Ed è necessario per ottenerlo la prescrizione del medico ovviamente. Dopo tutto l'iter registrativo che abbiamo visto già in altre occasioni finalmente l'azienda presenta una domanda di registrazione o di immissione in commercio per essere più precisi all'ente regolatorio. In Italia è l'AIFA. In Europa si chiama EMA. European Medicine Agency. Esatto. Sempre più frequente si fa l'EMA perché per motivi pratici diciamo e anche perché l'azienda pensa di poterlo vendere in tutta Europa quantomeno. Non soltanto in una nazione quindi ha interesse a che l'EMA esamini il dossier registrativo e quindi l'approvi a livello europeo. A questo punto il farmaco è registrato ed è in genere inserito, in genere è una parola grossa diciamo, il farmaco viene valutato per poter essere inserito o tra i farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale o non rimborsato. Ok. Nella fase di approvazione l'azienda propone un prezzo normalmente l'ente italiano chiede degli sconti. Insomma è una contrattazione vera e propria. Un mercato, un vero mercato. Un mercato mi sembra una parola grossa perché nel mercato abbiamo l'idea sempre di quello che ti chiede 100 per avere 5. Non è proprio così. Le aziende che se ne dica sono abbastanza responsabili di tutto questo. C'è tutta una comparazione con altre terapie, se il farmaco innovativo oppure no. Insomma c'è tutta una serie di parametri di cui si tiene conto e quindi poi alla fine si raggiunge un accordo. A questo punto il farmaco viene immesso in commercio, i medici cominciano a conoscerlo perché chiaramente in genere... Ci vuole anche il suo tempo. Ci vuole un po' di tempo prima che il medico conosca. In genere le aziende hanno degli informatori medico scientifici che vanno a illustrare il farmaco nei suoi pregi e nei suoi difetti. Perlomeno questo è quello che si auspica avvenga per tutte le aziende farmaceutiche. In maniera che il medico possa fare una prescrizione responsabile e utile per il paziente ovviamente. Perfetto. Parlavamo di fascia A e di fascia H per i farmaci. Allora esatto. Il farmaco etico è un farmaco a tutti gli effetti come abbiamo detto fino adesso. Poi questo farmaco può essere utilizzato o in un paziente che vive a casa diciamo che fa la sua vita normale. Io ho una bronchite e utilizzo un antibiotico perché ho la bronchite ma sto a casa a meno che la bronchite non sia particolarmente impegnativa da richiedere un intervento ospedaliero. Ovvero il paziente è ospedalizzato perché ha una patologia che lo richiede e quindi il farmaco etico a questo punto viene utilizzato in ospedale. Può essere utilizzato solo in ospedale per alcune patologie particolari. Gli anestetici che vengono utilizzati solo in ospedale tanto per fare l'esempio estremo c'è tutta un'altra fascia. Viceversa alcuni farmaci ospedalieri possono essere utilizzati anche al di fuori dell'ospedale qualora il paziente sia a casa. Quando parliamo di farmaci SOP a che farmaci ci riferiamo? Allora dei farmaci SOP, l'acronimo SOP significa senza obbligo di prescrizione quindi sono dei farmaci che normalmente non sono rimborsati per cui non si può fare una pubblicità e vengono diciamo dispensati su consiglio del farmacista. Io vado al farmacista e faccio la mia richiesta e il farmacista come il medico fa la prescrizione, il farmacista in scienza e coscienza dirà a te potesse essere utile questo farmaco. Questo piuttosto che quest'altro. Esatto e quindi è un farmaco che però a differenza del farmaco che sta in fascia è a completo carico del paziente. Alberto invece volevo chiederti i farmaci OTC quali farmaci sono? Spieghiamo innanzitutto cosa significa OTC. OTC è un acronimo inglese che significa over the counter quindi è il farmaco che noi definiamo DABANCO. Il farmaco DABANCO è un farmaco per patologie lievi conosciute dal paziente e conosciuto per i suoi effetti terapeutici. Quindi il paziente sulla base di quello dei sintomi che accusa identifica una patologia lieve che ne so io un mal di gola, mal di testa, una cosa di cui purtroppo si soffre abbastanza generalmente. Non definiamo banale una patologia perché poi le patologie insomma completamente banali però il paziente in base alla sua esperienza sa perfettamente che cosa può prendere un aspirina piuttosto che qualche altro antinfiammatorio. E si tratta di farmaci che possono essere promossi in pubblicità? Esatto a differenza dei farmaci senza obbligo di prescrizione questi invece possono essere fatti conoscere per mezzo della pubblicità. La pubblicità è regolamentata perché sempre di farmaco parliamo una delle più conosciute norme è quella di leggere attentamente le istruzioni d'uso che normalmente non si capisce nulla di quello che uno dice però per legge va detta e varia la velocità con cui viene detto però insomma è uno degli obblighi. L'altro è che normalmente non sono utilizzabili nei bambini insomma ce ne sono una serie di norme che qui per brevità insomma non diciamo però è una pubblicità completamente regolamentata cioè l'azienda prima di fare pubblicità in televisione piuttosto che nei media presenta lo spot al ministero della sanità al ministero della salute che può approvare o meno chiede le modifiche. Benissimo ringraziamo il nostro Alberto Aiuto per essere stato qui con noi e per averci spiegato così esaustivamente le differenze tra i farmaci. Lo avremo di nuovo qui nelle prossime settimane per parlare sempre di altri tipi di farmaci. Grazie a tutti i nostri spettatori e ascoltatori e ci vediamo presto ciao